Conferire a Brindisi la medaglia d'oro per l'accoglienza, a rinnovare la richiesta lega ambiente che ha voluto ricordare tramite una mostra virtuale la storia di accoglienza del territorio brindisino che trova nell'esodo degli albanesi solo l'ultima pagina e che vede Brindisi protagonista. Il trentennale celebrato in questi giorni è stato anche l'occasione per rilanciare questa richiesta e ricordare il ruolo centrale svolto da parte dei cittadini brindisini nella storia. È vero che noi pensavamo di fare in presenza tre mostre sull'argomento che abbiamo realizzato nel tempo ovviamente l'abbiamo dovuto fare in modo virtuale chi vuole può andare sulla pagina facebook di lega ambiente Brindisi per trovare questo materiale. Ora già dieci anni fa noi abbiamo fatto questa richiesta ricordando la storia degli esodi e l'accoglienza da Brindisi. Brindisi ha accolto dalla fine dell'ottocento i ebrei, ha accolto i serbi durante la prima guerra mondiale, ha accolto chi fuggiva dall'istria subito dopo la guerra, Brindisi ha avuto nessuno lo sa un campo di concentramento a Tuturano durante la guerra, Brindisi ha accolto chi fuggiva dall'Egitto e c'erano tanti brindisini che si erano trasferiti lì. Brindisi ha accolto poi oltre 25 mila albanesi da sola aprendo le porte e c'è una lunga storia poi di rapporti con l'Albania, l'ha riconosciuto il presidente di Rama chiedendo che ogni 7 di marzo si ricordi questa esperienza ma soprattutto in tributo alla città di Brindisi.